Ministro, due domande, una molto personale se mi può rispondere. Lei diceva noi non ci muoveremo da Kiev, vorrei sapere se la sua famiglia e i suoi bambini vivono a Kiev o se ha mai pensato di metterli in sicurezza altrove, cioè se vi sentite sicuri o in pericolo voi, le vostre famiglie e i vostri figli. E la seconda domanda è come Ministro della Cultura, abbiamo parlato di armi, ma lei è Ministro della Cultura, che cosa può fare, che battaglia può combattere la cultura concretamente nel mondo? La mia famiglia è in Ucraina, io sono a Kiev, quindi non abbiamo con intenzione di andare via da questo Paese. Ho parlato con il vostro Ministro della Cultura e abbiamo parlato della questione della ricostruzione del teatro di Mariupol e abbiamo apprezzato molto e ringraziamo il Ministro Franceschini che ha avuto questa iniziativa, perché questo significa che crediamo fortemente che torneremo a Mariupol e ricostruiremo la cultura a Mariupol. E questo è molto importante, ma prima di tornare a Mariupol bisogna salvarla, bisogna ricostruire tutto il Paese, compreso il teatro di Mariupol. E prima di fare questo dobbiamo far ritirare le truppe russe. Per questo parlo come Ministro di Cultura, parlo comunque di armi, di armamenti, perché è fondamentale. Lo stesso riguarda i canali russi che vanno sanzionati in tutta Europa, perché la prima arma che non è fisica è la propaganda. Certo. Emanuele...